Previamente introduciamo il maestro Torvajanica che è qui per raccontarci e farci sentire dei canti inediti nel quadro della riforma generale della Gai che prevede un spazio folk anche ad alto gradimento, anche a traduzione tipico programma consumista. Ho dedicato tutta la mia vita, tutta la mia esistenza ed ecco il maestro Torvajanico che è già partito 1.542.703 canti popolari delle regioni più disparate, più remote del mondo e anche più disperate se vogliamo e soprattutto perché proprio sono disperati, sono poveretti, questi non hanno niente Di chi ci parla oggi? E di chi ci canta i canti oggi? Io ho una miriade di... Sì, no, ma oggi potrei parlare degli uomini talpa Gli uomini talpa? Sì, della Malgaccia Superiore Malgaccia Superiore, è una regione dove? Tra l'America del Sud e l'America Centrale Malgaccia La Malgaccia Ma è una regione sperduta, no? Sperduta, impervia, dove non è mai andato nessuno E lei ci è arrivato? Ci sono arrivato perché riuscì in una vecchia mappa che sembrava fosse andata perduta Piccolo ghiere la mappa? Piccolo? No, piccolissima, riuscì a individuare questa regione dove appunto c'erano questi uomini talpa Che significa uomini talpa, maestro? C'erano uomini talpa perché vivono sempre sotto terra Sotto terra Perché loro sono sempre combattuti da un altro popolo più feroce di loro I quali ogni volta che questi poveretti tentano di mettere la testa fuori dai loro buchi E lì con grandi mazze li randellano fino a spapolargli le cervelle Quindi loro sono uomini talpa, loro malgrado Non vorrebbero essere uomini talpa No, e allora c'è il canto di ribellione, canto facinoroso, canto doloroso Praticamente, ma sono qualche volta sono riusciti a mettere la testa fuori, a vedere come è il mondo diciamo Ma si è verificato un caso unico, ma diciamo era il capo di questa tribù Ma il suo corpo è stato ridotto come una pizza, fu ridotto come una pizza dalle grandi randellate Sono sempre pronti fuori questa tribù, è mica sempre pronta Sì, hanno costruito le loro capanne intorno alla tribù degli uomini talpa Quindi sono le palli di lei Beh, non hanno... Certamente, sono palli, non vedono il sole mai Sono bianchissimi, più bianchi di noi Vengono anche chiamati i pallidoni I pallidoni appunto per questa loro impossibilità di stare al sole Senta, maestro Torvaglianica Allora ci vuol far cantare questo, come si chiama? Canto randellato Canto randellato è un canto appunto di questa popolazione Chi lo canta, scusi? Gli uomini talpa dopo, credo, no? O gli altri che danno le randellate Ma c'è un canto prima e dopo Faccia sentire quello di dopo, va? Il canto randellato Cioè dopo che hanno preso le randellate? Sì, dopo che hanno tentato di uscire Sì Le randellate dalla tribù avversaria Loro cantano presso a poco così, no maestro? Aio, 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 aio Sì, e io sono riuscito ad avvicinare questi uomini in talpa attraverso dei cunicoli segreti sotterrani ad arrivare sino a loro. E come mai è riuscito ad arrivare là? Tramite... No, perché ho dedicato... Ho dedicato tutta la mia esistenza alla ricerca di questi canti e poi portare un messaggio di pace, di amore. E un mio assistente, curioso di vedere come agivano questi randellatori, mise fuori la testa e ebbe la testa spappolata da una randellata. Mamma mia! Ma quanto assistenti ha avuto lei? Ma ne ho avuti tanti, ma sono periti tutti quanti. Accidente, solo lei si è avvissuto. O randellate, o lance, o frecce, o fuochi, sono stati cotti, uno è stato cotti in un pentolone. E lei? Ma adesso ce lo racconto un'altra volta. Grazie per avermi vedere, è stato molto bello. Addio, 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 addio. Addio, ma adesso, addio. Addio!